Ci sono invece dei viaggi, qualche volta, rari viaggi, che diventano dei viaggi diversi, importanti. Uno di questi è stato ovviamente quando è arrivato il momento di chiudere la mia casa cinese e di ritornare a vivere negli Stati Uniti, non più in California dove ero abitato, ma a New York. Quindi quella volta, quel volo da Pechino a New York improvvisamente è diventato un volo ipersensibile in cui ogni dettaglio mi colpiva molto di più, perché sapevo che si stava chiudendo un capitolo della mia vita, facevo le valigie, chiudevo una casa, mi trasferivo. E allora ho cominciato ad accorgermi che dietro di me lasciavo l'aeroporto intercontinentale di Pechino inaugurato per le Olimpiadi del 2008, disegnato dall'architetto inglese Norman Foster, l'aeroporto più bello del mondo, visto dall'alto alla forma di un dragone cinese, ma è soprattutto un aeroporto meravigliosamente efficiente dove tutto funziona alla perfezione. E sono arrivato invece all'aeroporto JFK di New York rendendomi conto di quanto sia vecchio, inefficiente, scassato, niente funziona più, neanche le scale mobili vengono riparate quando si guastano. E da lì in poi il mio viaggio di avvicinamento alla città di New York è stato un susseguirsi di esperienze di un decadimento, le autostrade piene di buche che non vengono più asfaltate perché mancano i fondi, perché lo Stato è troppo indebitato, i taxi, i famosi taxi gialli di New York che sono delle macchine così arrugginite che il rumore del cigolare, delle molleggiature man mano che assorbono buche è assordante. La metropolitana, se uno prende il metro, la metropolitana di New York è più sporca della metropolitana di Mumbai e così via, un avvicinamento fisico a questa sensazione di decadenza. E tuttavia, proprio nell'esperienza della decadenza, della decadenza americana, un luogo mi ha attirato molto nella città di New York è un museo, non è uno dei più famosi, la Noye Gallery, è vicina al Metropolitan, al Guggenheim, ben più grandi, ben più famosi. La Noye Gallery è un museo privato dedicato quasi esclusivamente al periodo dell'espressionismo tedesco, ci sono quadri meravigliosi di tre grandi pittori che sono Klimt, Kokoschka e Schiele, ma quello che mi ha colpito in particolare, visitando la Noye Gallery, è che c'è una caffetteria dove fanno un'ottima Sacher, uno strudel proprio come a Vienna e poi c'è una libreria che ricostruisce l'ambiente culturale dove vivevano Klimt, Kokoschka e Schiele e mi sono reso conto di come nella stessa città, negli stessi anni, Vienna ha ospitato Sigmund Freud, creatore della psicanalisi, Maler, Gustav Maler, il compositore, Wittgenstein, filosofo matematico, Roth, lo scrittore, quello della cripta dei Cappuccini, della Marcia di Radetzky. Pensate quale incredibile concentrazione di geni, di talenti creativi in una capitale che era al centro di un disastro, di un impero che era in piena disgregazione. E questa credo che sia la metafora più espressiva di quello che New York sta diventando oggi, è una città meravigliosa, di creatività, è un laboratorio culturale che non ha mai sprigionato così tanta energia come oggi nel mezzo della decadenza, perché i periodi di decadenza sono spesso i periodi più belli, i più meravigliosi da vivere, perché sono i periodi in cui finalmente una civiltà troppo orgogliosa, troppo sicura di se stessa, ha la capacità del dubbio e allora si apre alla contaminazione.